Il Piano Sociale Regionale 2022-2024 ha una dotazione di oltre 450 milioni, un fondo che la Regione, nonostante il periodo di difficoltà, ha aumentato, addirittura triplicato. Un piano approvato in Consiglio Regionale lo scorso 24 febbraio 2022, grazie ad una legge regionale che punta sull'inclusione per contrastare le fragilità. Il piano è il risultato di un'ampia consultazione a partire dall'istituzione di una cabina di regia del Piano Sociale Regionale. La presentazione in Regione è la presenza del Governatore Marco Marzillo, dell'Assessore Regionale Pietro Quaresimale e Dirigente Pascale. Confermiamo tutte le misure adottate sin d'ora, quindi supporti a favore dei caregiver, degli oncologici, vita indipendente, il dopo di noi, ovvero per tutte quelle persone che dopo il venir meno di quelle persone care rimangono sole. Logicamente aumentiamo la dote finanziaria e questo è molto importante perché in un momento così difficile, dove ci sono tagli, aumentare questa spesa è sicuramente una cosa che mi soddisfa e è il buon lavoro che abbiamo fatto perché le persone più fragili vanno supportate, anche la luce di questa emergenza Covid. Un passo in avanti molto importante, una programmazione triennale, fondi appunto più che triplicati rispetto al passato, in un momento molto difficile e delicato, è quello che ci voleva. E anche una grande velocità, in poche settimane siamo passati dall'approvazione della delibera ingiunta all'approvazione della legge in Consiglio Regionale, è stata appunto una prova di grande maturità e di grande compattezza. Le azioni del piano sociale si integrano con le azioni del PNRR e del ReactEU per una strategia d'insieme coordinata nel programma Abruzzo prossimo. Gli interventi previsti con i fondi sono tanti per la povertà, per la solidarietà comunale, per la vita indipendente, il sostegno ai malati oncologici, per il dopo di noi, per interventi regionali e nazionali, per la famiglia ai minori, per la povertà educativa, per i centri antiviolenza e le case rifugio e per i diritti e le pari opportunità. Ci saranno anche interventi sulle infrastrutture. Per quel che riguarda il PNRR e il ReactEU Abruzzo, per l'inclusione, occupazione, sostegno alle imprese e coesione sociale, contrasto alle fragilità e inclusione sociale, ci sono diversi progetti in campo, per un totale di oltre 93 milioni. Ci sono progetti a favore delle famiglie e dei minori, per il sostegno alla disabilità gravissima, per l'apprendimento permanente, per il diritto allo studio, per la creazione di spazi per l'inclusione, per lo sviluppo dell'autonomia, per la realizzazione di case di comunità e tanti altri servizi di prossimità. Anche per i minori, residenzialità e per progetti care livers. In tutto questo ci sono specifici progetti poi del PNRR destinati all'Abruzzo, per coesione sociale, contrasto alla fragilità e inclusione, per il sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, per l'autonomia degli anziani, per il rafforzamento dei servizi sociali, per percorsi di autonomia delle persone con disabilità e per progetti legati alla povertà estrema.